In occasione delle celebrazioni delle quattro giornate di Napoli si è tenuto un incontro presso la sede della Whirlpool in Via Argine a Napoli, un confronto voluto dai sindacati sui temi del lavoro ed è intervenuto tra gli altri il senatore Sandro Ruotolo che ha rimarcato l'importanza della scelta della sede di Via Argine quale simbolo della lotta e della resistenza. Questa data che è significativa perché è l'inizio delle quattro giornate di Napoli, della resistenza al nazifascismo e della liberazione della città e queste celebrazioni iniziarle dalla Whirlpool hanno un significato enorme perché oggi la nostra resistenza parte da qui, cioè dalla difesa del posto di lavoro della Whirlpool che è una battaglia che è importante e che noi troviamo scritta nella nostra Costituzione quindi è una battaglia di resistenza e una battaglia di liberazione anche dalla camorra perché perdere un posto di lavoro è sempre drammatico. Perderlo in una realtà come qui, Via Argine, quindi nella periferia est di Napoli, significa far vincere la camorra. Le programmazioni continuano nel pomeriggio al Maschio Angioino con un altro incontro dal tema Le quattro giornate simbolo di identità e memoria di Napoli.